Una gara da vincere, il Pescara non ha proprio alternative. Quella con il Carpi, che sabato all'Adriatico sarà privo di Capitan Porcari, assomiglia molto alla sfida con Lentella. 90 minuti da dentro o fuori per tornare a far punti e muovere una classifica che resta sicuramente deficitaria. Marco Baroni non si è nascosto e ha ammesso l'esistenza di più di qualche problema in casa biancazzurra. Aresti e compagni restano infatti troppo vulnerabili in difesa, non riuscendo poi ad esprimere tutto il potenziale di squadra. Al tecnico pescarese il compito di trovare la quadra. Qualche correttivo nell'undici titolare ci sarà già da sabato prossimo. Contro gli emiliani scenderà in campo una formazione con alcune novità. Scontata quella in difesa con Salamon, che farà coppia al centro con Ciosic. Nella zona nevralgica del campo a Pelpiret potrebbe avere anche una giornata di riposo. Scalpita per tornare a calcare il Prato Verde. Matti Nilsen con Guana, che potrebbe anche lui finire in panchina. In attacco tutti chiedono a gran voce che la coppia Maniero Melchiorri venga proposta dal primo minuto. Tanti punti interrogativi per il trainer adriatico e una sola certezza. Bisognerà vincere anche perché nelle mini tour de force che ci sarà in una settimana, il Delfino avrà prima il turno infrasettimanale a Bari e poi un'altra partita casalinga all'Adriatico con lo Spezia. Dobbiamo lavorare, è quello su cui dobbiamo migliorare. Io, ripeto, sono convinto che attraverso il lavoro miglioriamo. Sabato, cioè venerdì, Sky mi ha fatto notare la giovane età della linea difensiva, no? Benvenga, cioè sono ragazzi che bisogna lavorarci. Abbiamo commesso qualche errore, li leviamo, ma li leviamo attraverso il lavoro, non a guardarli o a criticarlo, a criticare i ragazzi, attraverso il lavoro. Ma io credo che possano far bene, anzi ne sono convinto. Sicuramente diverso il clima che si respira nella vicina Lanciano. C'è ancora rammarico per la mancata vittoria contro il Perugia, ma anche la convinzione di poter continuare a recitare un ruolo di primo piano in questa stagione. Il prossimo avversario si chiama Vellino, un osso duro anche se il partenio evoca ai rossoneri bei ricordi. La buona notizia per D'Aversa riguarda il recupero nelle ultime settimane dei vari acciaccati, anche a Menta e sul viale del recupero. Ma il difensore non verrà rischiato in terra d'Irpinia. Scalpitano per fare bella figura contro la loro ex squadra Tiam, Di Cecco e soprattutto Vastola, riscopertosi quest'anno anche Goliador.